Guardate che cosa ho appena trovato sulle mie piante di lavanda. Si tratta di un piccolo coleottero crisomelide, noto anche come crisolina americana. E come vedete questo coleottero molto bello, dai riflessi metallici e dai colori abbastanza sgargianti, ma anche molto piccolo, si nutre delle nostre piante di lavanda purtroppo, andando a derodere la parte aerea. Quindi crisolina americana, controllo delle fitopatie, controllo anche di questi coleotteri. Possiamo controllare le nostre piante di lavanda anche dando una semplice occhiata al mattino alla ricerca di questi piccoli insetti.